In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani. Riunita la folla, Gesù disse loro, ascoltate e comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli, sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati? Ed egli rispose, ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi e quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. La questione della purità rituale è sempre stata una patata bollente per i maestri della religione. Come fai a rispondere a chi ti mette in scacco matto presentandoti l'implacabilità della legge o delle tradizioni religiose? E non è questione dei tempi di Gesù, anche oggi accade questo. Perché anche nel nostro contesto cristiano non siamo ancora capaci di gustare la libertà a cui Cristo ci ha chiamato, come professava il carissimo San Paolo. Pensiamo a quando devo rasserenare chi non ha ultimato la devozione in onore al cuore immacolato di Maria. Magari quel sabato ha dovuto correre a destra e manca per far fronte ai problemi della famiglia e si è ritrovata senza poter fare la comunione e pare disperata perché non ha adempiuto il rituale. Ma Gesù e Maria sono contenti di te, le dico, tranquilla, hai fatto la sua volontà che supera ogni devozione. C'è invece chi ti arriva ad orari impossibili per chiederti di fare la comunione. Ma non ha senso fare la comunione al di fuori del contesto liturgico, le dico. Mi risponde, la Madonna vuole così. E vabbè, siamo ancora figli della legge e forse questo Vangelo deve scuotersi un po'. Non è con l'adempiere rituali che purifichiamo il nostro cuore, dice Gesù ai farisei. Il cuore guarisce solo quando ci abbandoniamo docilmente alla sua volontà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.